Si dice che una delle poche cose certe della vita siano le tasse. Esiste fiscalità anche nel campo degli investimenti? Sì, anche nel campo degli investimenti c'è della fiscalità. Ma questa non è necessariamente una cattiva notizia. Se si pagano delle tasse, di solito, è perché si è generato un profitto. In alcuni casi si tratta di importi fissi, in altri applicata al controvalore delle operazioni, ma nella gran parte applicata all'eventuale reddito positivo generato dall'investimento. Sono Antonio Delvaso, responsabile investimenti del Fosbank, e oggi parliamo di come si paga la fiscalità sugli investimenti e come funziona, quantomeno secondo la legge italiana, e con riferimento ai privati cittadini. Precisiamo subito, infatti, che per le persone giuridiche ci sono peculiarità che non affronteremo in questa sede. Tecnicamente dobbiamo operare una prima grande distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi. Nella famiglia dei redditi da capitale troviamo gli interessi cedolari e i dividendi che rispettano le seguenti caratteristiche. Sono certi, o quasi, nella loro realizzazione, ma non nella quantità. Possono essere soltanto maggiori di zero. Sono tassati immediatamente dall'intermediato. Fanno parte, invece, della seconda famiglia dei redditi diversi, tutti quei proventi che non rientrano tra i redditi di capitale, come ad esempio la differenza tra prezzo di acquisto e prezzo di vendita, che rispondono alle seguenti caratteristiche. Sono incerti sia nella loro realizzazione che nella loro quantità. Possono essere sia positivi che negativi. Ora facciamo una puntualizzazione importante sulla definizione di capital gain. Dall'inglese all'italiano potremmo chiamarlo guadagno in conto capitale e quindi, per assonanza, pensare che faccia parte dei redditi da capitale. Ma non è così. E in questo caso si tratta di un false friend. Il capital gain è quindi riconducibile alla famiglia dei redditi diversi ed identifica la differenza di prezzo tra vendita e acquisto, che se positivo genera una plusvalenza, più semplicemente plus, che sarà soggettata con aliquota del 12,5% sui titoli di Stato e del 26% per tutte le altre tipologie. Se invece la differenza tra prezzo di vendita e di acquisto fosse negativa, si creerà una minusvalenza o minus. Senza scendere nei dettagli, è importante sapere che realizzando delle perdite potresti accumulare uno stock di minus in conto redditi diversi da poter utilizzare come compensazione per pagare, o meglio, evitare di pagare, future plusvalenze. Il mondo della fiscalità rappresentato così sembrerebbe anche semplice, ma nella realtà abbiamo eccezioni ed intrecci che rendono il tutto decisamente più complesso. Un'eccezione, ad esempio, è rappresentata dai fondi. La vendita di un fondo ad un prezzo maggiore rispetto al prezzo di acquisto, vendita in plus, eccezionalmente genera redditi da capitale. E non redditi diversi. Mentre una vendita ad un prezzo inferiore rispetto a quello in acquisto, vendita in minus, per necessità deve essere inserita nella famiglia dei redditi diversi. Una ulteriore particolarità nel mondo dei fondi riguarda la tassazione dei proventi del fondo stesso, che saranno tassati in proporzione alla contribuzione al rendimento da parte degli eventuali titoli di Stato, dove quindi sarà applicato il 12,5%, mentre il restante sarà tassato al 26%. Pertanto ne uscirà un'aliquota media di tassazione, compresa tra il 12,5% e il 26%. Ancora una curiosità per ultimare il discorso sulla fiscalità dei fondi. Una particolare tipologia di fondi, i fondi PIR, Piani Individuali di Risparmio, se detenuti per 5 anni, prevedono l'esenzione fiscale sul relativo rendimento. Ora facciamo insieme un viaggio nel mondo, in quanto è possibile investire in titoli, il cui emittente ha sede in paesi diversi dall'Italia. Lo Stato italiano ha firmato delle convenzioni bilaterali con la maggior parte degli stati stranieri per evitare la doppia tassazione, e quindi avremo delle situazioni diverse a seconda dei casi. Ma vediamo insieme il caso piuttosto singolare della Francia. Supponiamo di aver investito in una nota azienda automobilistica francese, e che da questa posizione ci arrivi un flusso di dividendi di 100 euro totali. Ebbene, siccome la Francia ha previsto una tassazione del 30% e che la stessa debba restare in Francia, dalla frontiera francese, se così possiamo dire, entreranno in Italia solo 70 euro, in quanto 30 vengono trattenuti direttamente dalla Francia. Per lo Stato italiano, quindi, l'investitore ha guadagnato 70 euro, e questi saranno assoggettati ad un'aliquota del 26%. Morale, in questo caso all'investitore restano 51,8 euro. Ora che abbiamo introdotto il tema della fiscalità in caso di vendita, parliamo di rivalutazioni delle partecipazioni, meglio detto affrancamento. Se abbiamo capito che per determinare il reddito sul quale applicare la ritenuta fiscale si confronta il prezzo di vendita con il prezzo di acquisto, e pertanto la fiscalità viene applicata al momento della vendita, l'affrancamento permette di anticipare una parte della fiscalità senza vendere la posizione. Ma qual è il vantaggio, penserai? Perché potrebbe essere conveniente pagare della fiscalità in anticipo? Tendenzialmente perché per l'investitore l'affrancamento prevede una fiscalità ridotta rispetto alla fiscalità applicata alla vendita, mentre lo Stato ha interessi in quanto incassa della fiscalità in anticipo. Per concludere questo argomento molto tecnico, ma sicuramente rilevante, ci sono delle imposte che non hanno per base il calcolo del rendimento, ma il controvalore, come ad esempio l'imposta di bollo dello 0,2% annuo. Oppure ancora, nel caso del conto corrente, abbiamo un'imposta fissa, attualmente di 34,20 euro, salvo che il saldo medio non sia inferiore ai 5.000 euro annui. In conclusione, la fiscalità degli investimenti è un aspetto cruciale da considerare per gli investitori, sia a livello nazionale che internazionale. È importante informarsi e comprendere le leggi fiscali del proprio Paese e delle giurisdizioni in cui si investe, per massimizzare i rendimenti netti e minimizzare gli oneri fiscali. Se questo video ti è stato utile, puoi mettere mi piace ed iscriverti al nostro canale per non perderti gli altri contenuti interessanti sull'investimento e la finanza. Grazie e alla prossima! Grazie a tutti!